Ben trovati, ci chiedono che è necessario fare i sacrifici per non perire, sicuramente non morirà formalmente il nostro paese, ma noi rischiamo di non star tanto bene per i prossimi anni. Si dice che attraverso la manovra e l'ipotesi di tagliare le province che credo debbano essere eliminate, magari bisognerebbe avere il coraggio di rivedere complessivamente l'organizzazione del nostro paese, tagliando per esempio le province dell'Assalento si risparmierebbero 2 milioni di Euro. Io faccio e ho fatto dei calcoli e dei conti attraverso cui si potrebbe portare nelle casse o delle regioni o dello Stato italiano in 18 mesi 83 milioni 997 mila Euro. Come faccio? Come è nata questa cifra? Bene, ve la spiego subito, perché se è giusto che noi dobbiamo contribuire con le pensioni dei nostri genitori ferme per due anni in base al costo della vita, se è giusto che dobbiamo contribuire pagando la benzina, se è giusto che dobbiamo contribuire pagando la nuova ICI e se è giusto che dobbiamo contribuire per comprare a prezzo sempre più elevato il denaro dalle banche, è anche giusto che chi chiede questi sacrifici debba farne altrettanto. Dice, ma anche loro pagano la benzina? Insomma, una buona parte sì la paga, l'altra parte ancora no. Ma è giusto che dobbiamo prendercela sempre con la classe politica? Ebbè, chi ha voluto tutte le leggi di questo Paese, tutte le disfunzioni senza controllare una volta approvate delle leggi di riforma? I politici, la classe politica, chi sta volendo questa manovra economica? Coloro che hanno fissato le regole economiche dell'Unione Europea che oggi sta fallendo e quindi dobbiamo come sempre uscire per differenza. Allora, 83 milioni 997 mila Euro in 18 mesi, in che modo? Subito detto. Noi abbiamo 945 parlamentari divisi, 630 alla Camera dei Deputati e 315 al Senato. Se a questi signori che sono comunque responsabili negli ultimi anni dell'attività politica noi facciamo pagare a testa al mese per 18 mesi 1000 Euro e con questi 1000 Euro loro non subiscono alcun crack economico o crisi economica né per la propria persona né per la propria famiglia, noi in 18 mesi riusciremmo a portare nelle casse dello Stato e vedremmo realmente con i nostri occhi il loro sacrificio per una situazione drammatica del nostro Paese, noi porteremmo 17 milioni e 10 mila Euro, quindi 1000 Euro a testa per 18 mesi per 945 parlamentari. Poi abbiamo 2307 ex parlamentari ai quali noi paghiamo la pensione maturata nelle forme discutibili fino all'altro giorno che ben tutti conosciamo. A questi signori io farei pagare qualcosa in più, perché essendo ex parlamentari sono quelli che maggiormente rispetto agli ultimi 3, 4, 5 anni hanno determinato scelte errate e hanno incrementato la crisi economica, per cui agli attuali parlamentari 1000 Euro al mese, a loro 1250 per 18 mesi per 2307 parlamentari che ancora noi con i nostri soldi manteniamo. Porteremmo a casa in questo modo in 18 mesi altri 51 milioni, 907 mila e 500 Euro, ma poi ci sono anche altri che hanno e percepiscono indennità pari all'80% di quelle dei parlamentari che governano le regioni, che molte volte sono anche produttrici di debiti e di scelte scelerate e chiamerei anche loro a contribuire, però siccome percepiscono l'80% dell'indennità parlamentare andrei a prevedere un 75% di proprio contributo rispetto a quello che gli attuali parlamentari darebbero o potrebbero dare in base a questo mio calcolo, per cui noi abbiamo in Italia 1117 consiglieri regionali ai quali io farei per 18 mesi 750 Euro e anche in questo caso non subirebbe alcuna crisi economica ogni singola famiglia di questi signori, arrivando a portare nelle casse dello Stato e delle regioni per 18 mesi ben 15 milioni 0,79 mila e 500 Euro. Totale, tra il contributo di 1000 Euro agli attuali parlamentari, il contributo di 1250 Euro degli ex parlamentari in pensione che sono 2307 e i 750 Euro dei 1117 consiglieri regionali, porteremmo contributo a testa per 18 mesi, porteremmo nelle nostre casse 83 milioni 997 mila e voi direte, anzi diranno loro perché forse voi sareste d'accordo e perché dobbiamo contribuire? Perché siete cittadini italiani con una maggiore responsabilità, perché rappresentate noi e chiedendo a noi dei sacrifici che non possiamo permetterci, dovete contribuire con il vostro sacrificio, con le vostre lacrime, ma è un piccolo contributo rispetto a quanto percepiscono, non diciamo che non dovete avere più la indennità, assolutamente no e vi assumete la responsabilità complessivamente di una classe dirigente che ha ridotto economicamente questo Paese, come ben sappiamo. Altrimenti dovrei fare un'altra riflessione, di questi 24 miliardi di Euro dividiamo per il totale della politica ex parlamentari, attuali parlamentari e consiglieri regionali che sarebbero in tutto 4369 e se io dividessi quella manovra economica per questo numero di politici rappresentanti del popolo italiano, loro dovrebbero sborsare 5.493.247 Euro a testa, forse meglio contribuire con 750, 1000 Euro e 1250 Euro, ma questo non succederà mai perché loro sono bravi a far finta di piangere per far piangere noi. A domani! Grazie!